E' iniziata una nuova settimana di lavoro per la pallacanestro Varese, che si è ritrovata questa mattina, lunedì 19 agosto, al campus per allenarsi agli ordini di coach Armand Mandole. Tra i primi ad arrivare, Davide Alviti e Capitanni Comenion. Entusiasmo e tanti sorrisi per i biancorossi, che continueranno il lavoro mattutino per tutta la settimana, fino a venerdì 23 agosto, quando è in programma un allenamento aperto ai tifosi, che si dovrebbe tenere alle ore 18 nell'impianto di Via Pirandello, con un 5 contro 5 del roster biancorosso.